Atto 2. La vita della morte. Undici anni. Zombie era una parola che Etta Hoffman aveva sentito per la prima volta il 189 07 33. 189 giorni dopo il 23 ottobre, alle sette e mezzo di mattina. La donna che la pronunciò chiamava della Cattedrale dell'Apprendimento all'Università di Pittsburgh, dove gli studenti della Pitt e della Carnegie Mellon erano riusciti a stabilire una connessione Wi-Fi dopo un anno di spossante lavoro e di rifornimenti irregolari. Hoffman rimase sorpresa. La sua capacità di sorprendersi non si era ancora esaurita. Gli umani, una specie per la quale aveva sempre provato un moderato interesse, ormai lo accolpivano quasi ogni giorno. La donna della Pitt si presentò come Andrea West. Disse che il suo gruppo aveva avuto successo a una versione di Internet irregolare, ridotta all'osso, con un'interfaccia testuale, che i codificatori esperti, e nel suo gruppo ce n'erano parecchi, potevano navigare se muniti di pazienza e di tempo in abbondanza. Alla fine avevano trovato il numero di telefono che Hoffman aveva diffuso su molti siti governativi insieme al messaggio «Come state? Chiamatemi». Hoffman annotò tutto quello che diceva Andrea West, anche se le novità erano poche. Altre due persone con cui Hoffman aveva parlato nei sei mesi successivi al 23 ottobre chiamavano quel poco di Internet che era tornato dai morti «La rete cadavere». E così la chiamava anche lei nei suoi appunti. Come concetto la rete aveva sempre stupito Eta Hoffman. Pur essendo costituita di cavi e circuiti, pompava i fluidi delle speranze, delle paure, delle gentilezze e delle crudeltà umane. Era viva. Per cui le sembrava logico che, come i corpi umani, fosse tornata dalla morte. Come tutti, Andrea West diceva di aver telefonato per avere informazioni, ma ormai Hoffman sapeva qual era il motivo. Il vero motivo. Andrea West voleva raccontare la sua storia, sperando che la sua vita e la sua morte fossero importanti. Tutto quello che disse finì in uno dei rapporti dati lo scritti di Hoffman, anche se l'unico particolare che la colpì fu la parola «zombi». Non cose, non spettri, non occhi bianchi, non demoni, non gang. «Zombi». Sembrava giusto. Forse era il carattere conclusivo della lettera Z, l'ultima dell'alfabeto. Semplicemente la fine. Solo il 286, 13 e 21, dopo che la parola era stata usata decine di volte da altri, Hoffman decise di indagarla. Ciò che la spinse non fu la curiosità, ma l'economia. Aveva a disposizione la biblioteca prestiti della MLD, tanto valeva usarla. La biblioteca era formata da libri e film che aveva trovato negli uffici e sulle scrivanie degli impiegati. Era partita con un ufficio all'angolo nord-ovest del primo piano e si era allargata verso est, passandone in rassegna tutti. Classificava ogni articolo in base al soggetto sugli scaffali della WSDC. La collezione di DVD e di Blu-ray della biblioteca prestiti prometteva bene. La sua serata tipica pre-23 ottobre consisteva nel consumare serie TV, un episodio dopo l'altro, come pacchetti di M&M. Ma nell'intero edificio, Hoffman non aveva trovato una sola serie completa e sapeva che avrebbe passato la notte in bianco se avesse dovuto saltare degli episodi o, peggio, se non avesse mai saputo come andava a finire. Si accontentava di guardare i film su uno dei pochi computer ancora muniti di un lettore DVD. I libri riempivano cinque scafalature. Un numero di impiegati superiore al previsto aveva interessi luridi. Era legato al fatto che vivevano nel district of Columbia? Cercò zombie nell'enciclopedia del macabro. Derivato dal termine congolese nzambi era una pratica implausibile ma confermata come autentica del voodoo haitiano. Autorizzato da un consiglio bizango, un guaritore, detto Bokor, infettava un criminale con tetrodotoxina, un veleno estratto da certi pesci palla. La vittima pativa una paralisi simile alla morte, veniva seppellita, poi disseppellita e tornava a vivere come uno schiavo rimbicillito che non avrebbe mai raggiunto il riposo finale negli Anguinè, il verde paradiso africano. I seguaci del voodoo credevano che il Bokor si impadronisse del t-bonange della vittima, cioè della parte dinamica della sua anima. Hoffman riflettè talmente a lungo da interrompere le sue abitudini quotidiane, la più importante delle quali consisteva nel catalogare e nell'indicizzare la collezione sempre più ricca di racconti dei sopravvissuti, che chiamava Personal Histories. Il caso di Andrea West poneva un dilemma. La maggior parte delle persone erano a conoscenza degli nzambi haitiani? Non lo sapeva e quindi non poteva dire se chi usava la parola zombie lo faceva con cognizione dell'etimologia. Il 372-600, più di un anno dopo, il 23 ottobre, le conclusioni di Etta Hoffman erano abbastanza solide per poterle scrivere, stampare e infilare in un raccoglitore come premessa alla raccolta intitolata Non per egocentrismo ma a meri fini discrittivi Archivio Hoffman dei racconti del nuovo mondo. La sua conclusione era che per il fenomeno del 23 ottobre non c'era termine più appropriato. Questo era il punto tragico decisivo. Uno zombie voodoo era stato giudicato meritevole del suo destino da un consiglio bizango. Questo nuovo mondo in cui tutti erano destinati a diventare zombie implicava che l'intera popolazione del mondo fosse stata giudicata allo stesso modo. Per quali peccati? Quelli classici sospettava Hoffman Gola Orgoglio Invidia Ira Avarizia Accidia Lussuria La maggior parte delle persone al mondo avrebbe rinunciato volentieri al suo tibonange in cambio di intrattenimenti superficiali. Hoffman si chiedeva se dovesse sentirsi presa in giro. Lei non aveva ceduto a nessuno di quei peccati eppure era stata condannata. No decise Vivendo da sola nel palazzo dell'American Model of Lineage and Dimension dieci anni dopo il 23 ottobre oggi era il 3856 00 Etta Hoffman era più felice che mai. La sua serenità aveva avuto una sola imperfezione ma assai distruttiva. Sei mesi prima il 4095 455 per la precisione una donna aveva contattato Hoffman tramite la linea fissa della WSDC. Era dalla prima telefonata cioè da dieci anni che lo squillo del telefono non la faceva sobbalzare così. Non c'erano state personal histories da registrare da ormai dieci mesi. Hoffman dovette asciugarsi le mani prima di prendere la cornetta e schiarirsi la gola prima di dire pronto. Subito si accorse che la persona che telefonava era diversa. Dall'anno 8 le voci dei sopravvissuti erano sommesse per abitudine o per sospettosità. Molti non dicevano il proprio nome temendo che il numero trovato sulla rete cadavere fosse una trappola ma la voce di quella donna era aperta e chiara e si presentò col proprio nome. Hoffman tuttavia non si fidò di quel nome e preferì pensare alla donna come a Snoop la ficcanaso. Snoop non voleva parlare. Snoop voleva ficcare il naso era da 10 anni che nessuno faceva domande a Hoffman anzi in realtà da 30 era ancora adolescente quando i medici avevano emesso la loro diagnosi finale e i suoi genitori avevano rinunciato a ogni contatto con lei Snoop ricordava Hoffman gli psicologi della sua giovinezza placidi e gentili nessuno era placido e gentile ormai Hoffman era confusa era diventata abile a trasmettere informazioni una perfetta Rochelle Glass senza essere oltraggiosa ma con Snoop dovete tirare fuori la guida alla conversazione delle personal histories che aveva scritto stampato e rilegato nell'anno 1 mi dica dove si trova mi dica come ci è arrivata mi dica l'ultima cosa che è successa Snoop diabolica sfuggiva alle domande ho sentito parlare di lei disse come si chiama Hoffman fece riferimento alla sua guida si trova in pericolo immediato la gente dice che lei raccoglie storie da quanto tempo sta facendolo chi altro c'è lì con lei dieci anni di storie potrebbero essere molto importanti lei potrebbe aiutare molte persone a capire come siamo arrivati qui qual è la sua posizione quali esperienze ricorda meglio parlare con me la innervosisce capisco mantenere segreta una località sicura è più che sensato e la sua deve essere super sicura per essere durata così a lungo lei ha un numero di Washington DC il che mi spinge a ipotizzare che si trovi in un edificio governativo mi parli delle persone che ha perduto andava così ogni volta alla fine Snoop doveva andare o la sua batteria si stava esaurendo o doveva fare altre telefonate entrambe le scuse incuriosivano Hoffman se Snoop aveva scogitato una forma di comunicazione affidabile quell'informazione doveva entrare nell'archivio Hoffman inoltre se Snoop avesse usato la sua tecnologia per conversare con molte altre persone queste potevano garantire una nuova era di personal histories eppure Hoffman si tratteneva dall'avanzare richieste non era orgoglio era preoccupazione che le sue richieste fossero sfruttate per arrivare a un qui pro quo Snoop aveva ragione in dieci anni Hoffman non aveva mai divulgato il proprio nome o la propria posizione quel giorno tuttavia aveva lasciato trapelare degli indizi involontariamente Snoop telefonava ogni poche settimane e Hoffman che non era abituata e non si trovava nella posizione di poter rifiutare le chiamate si sentiva spossata dalle sue continue buone intenzioni quando Hoffman si sottraeva le grandi domande Snoop gliene faceva di piccole che cibo le mancava odiava anche lei grattare la fuligine delle candele del soffitto Snoop fece centro involontariamente che serie tv le piacciono quelle vecchie rispose subito Hoffman ah si mia madre e io guardavamo tantissimo la tv quando ero ragazza quali erano le sue serie preferite The Andy Griffith Show Star Trek The Dick Van Dyke Show Lessie Lucy e io Perry Mason io e miei tre figli The Honeymooners Mr. Ed il mulo parlante Petticoat Junction Gli uomini della prateria Papà ha ragione This is your life wow quante parole per una come lei ha bisogno di sedersi sono già seduta disse Hoffman ma le batteva forte il cuore non so se riuscirei a guardarla di nuovo continuerei a preoccuparmi della presenza di zombie fuori dalla finestra di Lucy e Daisy o che il gruppo di Star Trek si trovi nello spazio perché gli zombie si sono impadroniti della terra e che Mr. Ed non dica niente a Wilbur se non che è fottuto alla grande capisce quello che intendo signora ehi la sto ancora chiamando signora dai mi dica come si chiama Etta Hoffman stava cercando di respirare Etta beh Etta è un piacere conoscere un'altra fan della vecchia Hollywood Hoffman pensò di aver sentito una pausa nella risposta di Snoop forse mentre si appuntava le parole Etta Hoffman le si chiuse la gola le si oscurò la vista si sentì accaldata non rispose a nessun'altra domanda di Snoop quel giorno quando l'aria agganciò con l'aria un po' offesa Hoffman rimase seduta immobile per un'ora ripetendosi quant'era stupida Snoop l'aveva fregata se nella rete cadavera erano ancora attive abbastanza sinapsi della vecchia internet un nome era la chiave per mille serrature tuttavia quando Snoop la richiamò il cuore di Hoffman ebbe un sobbalzo e fu felice di parlarle ancora a letto di notte si martellava di domande le piaceva essere interrogata e se Snoop le avesse chiesto il nome perché lei le piaceva davvero era mai piaciuta a qualcuno Hoffman era giusto desiderare di piacere negli anni prima del 23 ottobre Hoffman non aveva capito l'amicizia ma non le importava nessuno voleva essere suo amico prima delle telefonate di Snoop le fantasie di amicizia di Hoffman si concentravano su Annie Teller Hoffman tentava di giustificare il proprio interesse per Annie Teller dicendosi che era legato alla password LABR3ATARP1T che permetteva l'accesso agli archivi Hoffman ma non le piaceva mentire a se stessa c'era qualcos'altro in realtà quando Annie Teller percorreva i corridoi in lungo e in largo a passi sicuro malgrado la sua zoppia Hoffman non aveva avuto desiderio di parlarle la perfezione che attribuiva l'anziana statistica avrebbe potuto incrinarsi Hoffman aveva però immaginato di essere Tawna Mediu la biondina della California cicciotella e paffuta che quando Annie Teller arrivata ai pozzi di catrame di Labrie sorrideva in modo sensuale che Hoffman era precluso sentiva nel suo cuore un amore che Hoffman non sapeva sentire e abbracciava Annie Teller come Hoffman non avrebbe mai osato fare si erano incontrate a Labrie di nuovo Hoffman rifuggiva dalle bugie probabilmente no le infrastrutture stradali americane erano state la prima cosa a impazzire dopo il 23 ottobre e Los Angeles era molto molto lontana da Washington ma ogni volta che Hoffman riceveva un messaggio telefonico da una donna con accento inglese il cuore le balzava nel petto e per un secondo si convinceva che fosse Annie Teller che le raccontava di essere con Tawna Mediu felice nel nido d'amore che si erano costruite dentro al museo dei pozzi di catrame di Labrie dove tutte le sere si abbracciavano sotto le zanne di uno scheretro di Mammut Hoffman si chiedeva se sarebbe stato considerato patetico il fatto che la postazione lavorativa che usava tutti i giorni era quella di Annie Teller per circa una settimana dopo il 23 ottobre usarla era stato logico perché aveva scoperto per prima la password di Annie Teller e l'aveva usata per accedere agli altri siti governativi dopo dieci anni però era ancora lì aveva pochi oggetti personali che la legavano al proprio cubicolo due in effetti un marsupio mimetico in cui metteva le razioni quotidiane di snack e una tazza rosa con il beccuccio che prediligeva per motivi di sicurezza se si rovesciava l'acqua non avrebbe danneggiato il computer di Annie Teller il cubicolo di Hoffman era sempre stato spoglio il cubicolo di Annie Teller era appena un filo meglio Hoffman sfogliava vecchi archivi dell'ufficio personale era rimasta stupita nell'apprendere che una sola persona nel palazzo li aveva tenuti su un file e rileggeva una circolare intitolata limiti di accettabilità nella personalizzazione del proprio spazio di lavoro usò una stampante a colori per stampare le foto più belle di Annie Teller e di Tano Amedio che riuscì a trovare nelle mail nessuna in cui fossero insieme naturalmente e le attaccò dalle pareti del cubicolo gli altri computer erano morti probabilmente invasi dalla polvere ogni schermo che si anniriva sembrava un simbolo un altro pezzo di mondo che cadeva il 1900 00 grazie all'aggiornamento quotidiano e alle riparazioni periodiche come da manuale dell'utente trovato da Hoffman in IT solo lo schermo di Annie Teller funzionava ancora l'ultimo fuoco di una caverna preistorica il resto della struttura dell'edificio reggeva a dimostrazione che il governo almeno in questo era preparato l'apocalisse l'elettricità e le linee di terra continuavano a funzionare anno dopo anno da qualche parte là fuori forse Annie Teller continuava a funzionare anche lei l'archivio Hoffman dei racconti dal nuovo mondo vantava finora 214 raccoglitori a tre fori una gigantesca storia orale del decennio successivo al 23 ottobre era un sacco di carta e le stampanti dell'ufficio avevano cominciato a cedere intorno al 1650 00 e a partire da quel momento Hoffman aveva cominciato a usarle alternativamente aveva scoperto nell'ufficio di un capo una macchina per scrivere conservata per la sua bellezza kitsch e stava per rimetterla in funzione se non ci fosse riuscita sarebbe tornata la scrittura a mano aveva sempre avuto una bella calligrafia così aveva cominciato le sue mani una matita un tempera matite una gomma un pezzo di carta i primi che telefonavano volevano indicazioni per affrontare gli zombie Hoffman che non ne aveva mai incontrato uno aveva poco da dire ma riceveva resoconti sufficienti a tracciare un utile profilo della pestilenza l'infezione si diffondeva quando il sangue di un essere umano vivente entrava in contatto con il sangue o con la saliva di uno zombie non c'era un tempo prestabilito fra il contagio e la trasformazione gli zombie non avevano difficoltà a distinguere fra altri zombie e vivi in media mangiavano solo il 5% di un corpo umano non dormivano mai sembravano capaci di covare il rancore si scambiavano informazioni mediante grugniti e forse in altri modi che nessuno riusciva a capire potevano essere uccisi con colpi alla testa o bruciati Hoffman scrisse l'elenco e lo recitava quando glielo chiedevano nell'anno 2 imparò a craccare gli smartphone nel palazzo ne erano rimasti una dozzina e lei cominciò a usare le loro app vocali per registrare le personal histories questo le consentiva trascrizioni molto più accurate che la riempirono di soddisfazione ciò che non le piaceva era la propria voce le dava fastidio sentirsi chiedere sempre le stesse cose mi dica dove si trova mi dica come ci è arrivata il pensiero che le sue stupide domande sarebbero state lette dalle generazioni future minava la sua sicurezza non poteva permetterselo quindi cominciò a eliminare le sue domande dalle trascrizioni delle personal histories in effetti non erano necessarie le risposte dicevano tutto l'unica cosa che i lettori avrebbero letto di lei dell'archivista sarebbe stata la lettera Q di question domanda questo le dava sollievo la Q era una lettera elegante stava bene sulla pagina quando pensava che i futuri utilizzatori dell'archivio l'avrebbero conosciuta solo attraverso le sue Q Q quasi sorrideva quando è che l'archivio sarebbe stato pronto per essere letto da quelli come Snoop l'unica cosa che Hoffman sapeva era non ancora non avrebbe aspettato che la piaga degli zombie terminasse non aveva motivo per pensare che sarebbe finita supponeva di essere in attesa di un evento che la spingesse a renderlo pubblico e il più probabile era la sua morte imminente se fosse stata colpita da una malattia mortale avrebbe avuto una semplice alternativa aprire le porte della MLD o lasciare che diventasse una tomba di Tutankhamen per i futuri archeologi Hoffman non aveva mai dato importanza agli oggetti il suo appartamento era come la sua postazione di lavoro pareti nude scrivani a sgombra l'archivio Hoffman era l'unico oggetto fisico che avesse mai adorato passava le dita sul dorso dei raccoglitori e incoraggiava la propria mente a dimenticare Snoop i suoi pensieri vagavano come facevano spesso in dieci anni di Personal Histories più imprevedibili di qualunque serie tv avesse mai guardato compresa Lost i primi anni l'avevano sorpresa per il numero di Personal Histories che confermavano la lezione della zampa di scimmia attento a ciò che desideri adesso lo dava per scontato al contrario di Hoffman la maggior parte degli esseri umani viveva in un perenne stato di insoddisfazione e metteva continuamente a rischio situazioni sicure per ottenere qualcosa di meglio una macchina più bella per correre sulle strade piene di zombie vestiti e prodotti per capelli allo scopo di mantenere standard di bellezza che non contavano più soldi la gente col cervello abitudinario come quello degli zombie continuava a penetrare nelle camere blindate dove restava intrappolata le raccontavano tutte queste cose cercando una soluzione che lei semplice scrivana non poteva offrire era una disgrazia che il telefono della WSDC spesso diventasse una linea rossa antisuicidio poiché Hoffman era del tutto impreparata a offrire conforto in verità non credeva che il suicidio fosse una risposta sbagliata la faceva pensare ancora una volta agli schiavi haitiani distrutti dal lavoro nelle piantagioni ansiosi di perdere il loro tibonange timorosi di non raggiungere mai il languinè il suicidio era per loro l'unico modo di controllare il proprio destino un uomo che aveva chiamato dal Minnesota diceva che lui e altri vivevano in un palazzo talmente fortificato che potevano condurre vite confortevoli ma aveva comunque intenzione di spararsi e non nella testa perché almeno gli zombie facevano qualcosa almeno gli zombie avevano desideri e obiettivi e volevano andare avanti Hoffman fu abbastanza colpita da creare una nuova voce nell'indice per soggetti dedicando mesi alla revisione dell'archivio suicidio metodi di ragioni per come mezzo per diventare zombie rifletteva su questa voce ogni volta che aggiornava l'indice Etta Hoffman non poteva fare a meno di confrontare la sua fame di storie con la fame di carne degli zombie le storie la tenevano in vita quanto i fagioli in scatola e l'acqua in bottiglia scartabellare nell'archivio era come guardare tutte le serie tv nello stesso momento sitcom documentari telenovela gialli medical drama attualità conosceva già le verità fondamentali della vita quando non faceva altro che inserire dati per la WSDC da nessuna parte c'era più vita che nella morte per dieci anni dopo il 23 ottobre quel pensiero l'aveva tenuta in attività le impediva di prendere in considerazione l'idea di diventare un numero di pagina accanto alla voce suicidio venti mesi dopo John Do il 662 8 e 51 Etta Hoffman ricevette la prima e ultima telefonata da qualcuno che conosceva era Elizabeth O'Toole una delle ultime quattro persone rimaste alla MLD prima di scappare con Terry McAllister la posizione di collega preferita di Hoffman di Annie Teller era messa a rischio dal fatto che le due non si erano mai parlate fra quelle con cui Hoffman era stata costretta a interagire nessuna le piaceva più di O'Toole prima di abbandonare il bunker insieme a Terry McAllister l'ultima cosa che Elizabeth O'Toole aveva fatto era stato chiedere a Hoffman di andarsene con loro sei tu gli aveva detto Elizabeth O'Toole a mo' di saluto la poetessa Hoffman ci mise parecchi secondi a riconoscere la voce la linea era disturbata ed Elizabeth O'Toole sembrava avere problemi alla gola si rispose Hoffman sapeva di non provare le emozioni come gli altri ma sentì una forza come se delle mani sulla schiena la spingessero a riconoscere il momento clou della storia sfogliò la guida la conversazione allora nuova di zecca e strinse la matita con dita sudate dimmi dove sei? non pensavo che fossi ancora lì Hoffman come vivi? Hoffman fissò la punta della matita la carta l'importante era dove si toccavano la donna che stringeva la matita che teneva fermo il foglio non contava io dimmi dove sei? Elizabeth O'Toole scoppiò a ridere la linea disturbata si trasformò in una nebbia digitale non sei cambiata mi fa piacere credo tutto il resto è cambiato davvero non credevo che fossi ancora lì ma abbiamo questo telefono una roba militare gigantesca è grosso come un tagliaerba con un'antenna di gomma infinita non è neanche americano ha delle scritte in cirillico credo che sia russo ti ricordi di quella politica dell'Alaska che diceva che vedeva la Russia dalla finestra di casa sua credo che siano venuti adesso sembra che se ne siano andati facevano roba buona però questo telefono funziona davvero mi sono detta chi chiamiamo e Terry ha detto la poetessa chiama la poetessa Hoffman scrisse telefono militare forse russo fece una pausa Terry McAllister ce l'abbiamo fatta Hoffman Terry e io siamo riusciti a lasciare Georgetown siamo arrivati a Harrisburg abbiamo preso un treno un treno ci pensi siamo venuti in Canada poi abbiamo continuato verso nord Ontario Manitoba forse siamo nei territori del nord ovest non lo so so solo che fa freddo è stato Terry a dire che dovevamo andare a nord lo diceva già prima di lasciare l'ufficio c'è meno gente a nord i morti avrebbero troppo freddo per muoversi aveva ragione in generale non ne abbiamo visti molti sono più lenti qui questo è sicuro si vedono le loro impronte nella neve il sangue si distingue bene di solito li sentiamo arrivare perché il ghiaccio sulle loro giunture scricchiola cosa mi hai chiesto dove siamo penso di averti già risposto tu come stai Hoffman Hoffman si guardò intorno i soliti fasci di luce tutto a posto io consultò i suoi appunti dimmi l'ultima cosa che è successa la risatina di Elizabeth O'Toole non era più amichevole come un tempo chiacchierona come sempre l'ultima cosa che è successa vediamo ci sono stati i lupi ci hanno seguiti per un po' hanno preso la maggior parte di noi in effetti ci sono stati degli inuit avevano archi e arpioni quelle cazzo di cose che chiamano ulu e che usavano per tagliare la testa alle persone non so cosa pensassero noi parlavamo eravamo vivi ma loro ce l'avevano con noi non ci vogliono quassù stiamo rovinando qualcosa ah e poi gli orsi bianchi non mi ricordavo che fossero così aggressivi forse sono cambiati è ovvio credo gli esseri umani non sono più la specie dominante vale la pena di rifarsi a suon di zanne e artigli immagino che a te non sia successo prossima Q prossima Q 6 il rumore di fondo aumentò una raffica di vento su una roccia ghiacciata hai notizie di John John Campbell spero che se la sia cavata ma ne dubito no e Georgia Wilmot ci penso spesso quell'enorme zaino che si era preparata magari sopravvive da qualche parte no Athena Sherman ti avrebbe fatto le scarpe potrebbe essere un capo adesso no oh e Buffy Carter mi ricordo di avere beccato la vecchia Buffy nella saletta maternità mentre scopava con Jimmy Freestone che eroe Jack Mangold Ginny Ullman Jamil Chalk Rolando Gross Bridget Hannums Erika Jessop Trey Fernandez Betty Lam Carsley nomi aridi come la carta su cui Hoffman li scriveva ma per Elizabeth O'Toole rappresentavano un fuoco d'artificio di ricordi anche quando la ricezione distorta del telefono russo rendeva impossibile distinguere alcune parole Hoffman riconosceva risa e lacrime rievocare quelle persone e le loro stupide irritanti stranezze era come riportarle in vita molecola per molecola Hoffman capiva e aspettava con pazienza alla fine una delle risate di Elizabeth O'Toole si prolungò in un sospiro Hoffman lo riconobbe dai film sentimentali era il momento di chiudere gli occhi anche se gli amanti potevano andare avanti a chiacchierare tutta la notte molte telefonate alla WSDC si concludevano con sospiri del genere Hoffman si chiese se quel suono sarebbe stato l'ultimo prima della fine del mondo non uno schianto non un gemito solo il triste piccolo sospiro di chi accetta che sia arrivata la fine beh Hoffman è stato aspetta le dita di Hoffman premettero sulla matita la mina scricchiolò scricchiolò anche la roccia su cui lei si trovava scricchiolò e la sua unica speranza di evitare l'abisso era dire qualcosa che comunicasse la preoccupazione e l'affetto che provava per lei questo era molto più difficile che vivere in solitudine o sapendo che la maggior parte delle persone che aveva conosciuto erano morte Terry Terry McAllister si ricordò che tutte le sue domande per quanto stupide sarebbero comparse nella trascrizione solo come Q come sta la pausa di Elizabeth O'Toole fu la più lunga dell'intera telefonata il vento polare ululava come un animale morente l'elettricità scricchiolava come centinaia di ossicini sotto i piedi quando parlò la sua voce si confuse con il sibilo del vento voglio dirti una cosa Hoffman non so se qualcuno te l'abbia mai detto di sicuro non quando lavoravamo tutti insieme e nessuno sapeva niente di nessuno anche se da trent'anni stavano tre metri di distanza sei una donna coraggiosa Hoffman ok sei brava quando tutti noi saremo morti e sepolti o morti e camminanti tu sarai ancora viva tu sopravvivrai a questa merda poetessa a tutto il suono rabbrividente forse era un suo sospiro terry è morto gli zombie a bordo di una slitta trainata dai cani sembra un brutto scherzo sembra ridicolo non lo è stato per niente poveri cani sai li addestriamo a fare certe cose e loro forse perdono l'anima vogliono ubbidire e basta hanno portato quegli zombie proprio davanti al nostro igloo e beh comunque io lo amavo davvero grazie per avermelo chiesto Hoffman grazie poetessa nove anni erano trascorsi fra l'unica telefonata di Elizabeth O'Toole e la prima di Snoop era un bel po' di tempo senza sentire domande che richiedessero un'introspezione personale Hoffman aburriva l'introspezione il suo sonno tranquillo da dieci anni si fece irregolare turbato dal pensiero di Snoop di quella donna curiosa e subdola le cui telefonate le facevano sobbalzare il cuore era uno stress accorgersi durante quei periodi di insonnia che era porre le domande e non rispondervi ad aprirti come una torta e a rivelare i tuoi strati l'atteggiamento disinvolto di Snoop faceva intuire a Hoffman che stava incominciando una nuova era una cosa buona probabilmente anche se lei pensava di preferire i nuovi anni bui Hoffman non poteva attribuirsi questa definizione più di quanto potesse attribuirsi zombie era emersa con le telefonate in quegli anni le reti energetiche erano crollate le città i paesi non erano più illuminati i sistemi di produzione alimentare e di smaltimento rifiuti erano collassati e tutti i metodi per condividere informazioni il collante della civiltà si erano dissolti se si possedevano buoni archivi e Hoffman aveva il migliore si potevano trovare temi specifici in ciascuno dei nuovi anni bui l'anno 1 per esempio parve una notte infinita nella quale si poteva vedere solo a pochi metri sembrava che i vari Tom Ben e Harry chiamassero Hoffman da case sigillate con assi dove tremendi litigi riducevano i sopravvissuti in pezzi più facili da masticare per gli zombie l'anno 2 portò la guerra anche a Hoffman aliena dalla politica questo sembrava inevitabile certi paesi erano meno attrezzati per affrontare gli zombie e il loro caos era irresistibile per le nazioni confinanti che covavano risentimento ci furono delle invasioni droni carri armati caccia truppe di terra città storiche rase al suolo genocidi incontrollati ogni scontro 2 dava origine a una terza parte che massacrava entrambi i belligeranti emergevano voci di zombie con armi da fuoco pochi e goffi e nessun rapporto venne mai confermato ma era un pensiero inquietante per vari motivi qualunque cosa sapessero gliel'avevamo insegnato a noi in alcuni casi non ci furono scontri vennero sganciate armi nucleari con la giustificazione che per distruggere gli zombie bisognava polverizzarli che fosse una scusa o meno la cosa non funzionò le bombe trasformarono Skyline famosi in aride tundre e assassinarono secondo le stime di Hoffman decine di milioni di persone la maggior parte delle quali tornarono come zombie Hoffman sentì che gli zombie atomici erano i peggiori di tutti capaci di uccidere senza toccare la loro carne irradiava morte l'anno 3 ebbe come simbolo l'esodo dalle città alle campagne Hoffman riceveva telefonate da zone con prefissi strani preceduti da prefissi internazionali ancora più strani spesso si trattava di isole al di fuori dei confini americani occupate nella convinzione che le acque circostanti le avrebbero protette ma non era mai stato così le isole erano come le alture nei pressi di un campo di battaglia tutti volevano impadronirsene col risultato di una percentuale di morti superiore a quella delle grandi città Hoffman sentì la storia di un'isola da cui la popolazione era stata spazzata via senza che una sola morte venisse attribuita agli zombie l'anno tre insegnò ai vivi che i posti sicuri potevano essere i più pericolosi chiusa nel suo bunker Hoffman non apprezzò appieno i nuovi anni bui prima dell'anno quattro il numero delle chiamate si ridusse Hoffman bisognosa di uno scopo intraprese il suo progetto di catalogazione e indicizzazione dagli aggiornamenti saltuari capì che la maggior parte dei sopravvissuti si erano stabiliti in strutture con caratteristiche simili alla MLD arene sportive magazzini di genere alimentari centri commerciali in una sola settimana dal 1471 0000 Hoffman ricevette non meno di 70 chiamate dallo stesso numero della Pennsylvania le persone si davano il turno a un telefono funzionante per descrivere un grattacielo di ricastri invaso dagli zombie che adesso stavano arrivando anche da loro i nuovi ricchi per cui dovevano scappare ma non prima di aver raccontato le loro storie anche a costo della vita il 1909 02 35 nel pieno dell'anno 5 Hoffman parlò con uno specialista in demografia che sosteneva che gli zombie ormai superavano i vivi per 400.000 a 1 Hoffman dovete prendere una calcolatrice per capire bene secondo un libro della biblioteca prestiti della MLD la popolazione della Terra il 23 ottobre era stata di circa 8 miliardi lo scenario migliore suggeriva che al momento il pianeta ospitava 7 miliardi 999 milioni e 980 mila zombie contro 20 mila vivi Hoffman analizzò i propri sentimenti non poteva fare a meno di provare scetticismo se i numeri dello specialista erano corretti gli esseri umani stavano facendo un ottimo lavoro nell'inventare modi per contattarla l'archivio conteneva personal histories provenienti da una percentuale di vivi superiori a quello che pensava usò il nascente indice analittico per passare in rassegna i primi 5 anni di racconti impossibili casalinghe che si mettevano insieme per sopravvivere forze di pulizia improvvisate che bruciavano le persone per contenere quello che si ostinavano a considerare un agente biologico un giovane incoraggiato dal caos a fingere visioni di vampiri una banda di motociclisti amanti delle rievocazioni in costume convinti che il loro codice arturiano potesse resistere a qualunque cosa un paraplegico intrappolato in casa torturato dalla sua scimmia ammaestrata che la supplicava di mandargli un aiuto storie stranissime che Hoffman leggeva e rileggeva un giorno avrebbe potuto ramentarci chi eravamo stati e come tentavamo di essere e quel ricordo avrebbe potuto salvare il mondo il maledetto anno 6 molti di quelli che telefonavano con voci tremanti lo definivano così tutto era cambiato nel maledetto anno 6 Etta Hoffman aveva cominciato a pensare che la gente avesse ritrovato la capacità di camminare le telefonate dell'anno 5 supportavano questa convinzione nessuno sembrava ottimista ma non sembrava nemmeno devastato come prima Hoffman sentiva la cupa determinazione che era abituata a sentire dai colleghi alla vigilia della pensione che ne avevano viste di tutti i colori le disgrazie capitano si va avanti fine della storia ma quella storia non finiva affatto naturalmente Hoffman prese nota della prima volta che lo sentì evidenziò addirittura la pagina del raccoglitore con un adesivo rosa quel giorno il 2297 18.05 un uomo di nome Mike nome prosaico per uno le cui parole avrebbero avuto un posto importante nella storia raccontò la propria esperienza ben oltre l'orario delle 6 che Hoffman rispettava rigorosamente lei era contrariata impaziente tanto che quasi le sfuggì un dettaglio così sorprendente da spingerla a fare una domanda non prevista dal questionario mi scusi ha detto che dice che lo zombie era uno scimpanze ripete Mike da questo semplice scambio di battute Hoffman capì per la prima volta che il sogno dell'umanità di riprendersi il mondo era finito Mike telefonava dall'ufficio di uno sceriffo a nord-est di Memphis dove stava percorrendo le strade insieme ad altre due persone e si era imbattuto in una coppia di scimpanze davanti a un Long John Silver l'avvistamento di uno scimpanze non era di per sé un fatto implausibile gli animali abbandonati negli zoo avevano cominciato a fuggire già dieci giorni dopo il 23 ottobre e le specie esotiche si erano insediate e moltiplicate nei parchi pubblici nelle strade cittadine e nei centri commerciali che sembravano fatti apposta per loro Hoffman aveva raccolto tre resoconti fra loro coerenti in base ai quali sembrava che gli elefanti discendenti dei mammut lanosi di Labrie se la cavassero particolarmente bene i camelli a Chicago i leoni a Indianapolis le zebre a Seattle prosperavano tutti gli scimpanze a Memphis non erano chissà che stranezza Mike era d'accordo ma poi lui e i suoi amici avevano visto gli scimpanze che si avvicinavano e questa era una cosa pericolosa dopo il 23 ottobre la rabbia si era diffusa in assenza di vaccinazioni tutti i mammiferi costituivano una potenziale minaccia dai cani ai gatti dai conigli alle volpi Mike sospettava che gli scimpanze fossero rabbiosi fuggiti dallo zoo di Memphis fu solo quando gli scimpanze gli arrivarono vicini che Mike si accorse che erano morti la loro pelliccia nera era violacea e lustra di sangue rappreso le viscere pendevano liberamente e mancavano pezzi di inguine ascelle e collo quando Mike e i suoi amici agitarono le armi gli scimpanze non batterono ciglio ruotarono i loro occhi bianchi e continuarono ad avanzare appoggiandosi sulle nocche come se seguissero lo stesso ordine quando uno raggrinziva le labbra dalle zanne giallastre gli altri facevano lo stesso abbiamo dovuto colpire gli zombie scimmi alla testa come quelli umani disse Mike Hoffman consultò la biblioteca prestiti nel maledetto anno 6 dovete farlo spesso un'enciclopedia medica assai vissuta proveniente dalla scrivania di uno statistico ipocondriaco spiegava la teoria secondo cui il virus dell'AIDS aveva avuto origine dalle scimmie e aveva infettato le persone che mangiavano scimpanze prima di mutare e diventare l'HIV c'era quindi un precedente nella condivisione di un virus con quella specie era inquietante ma non sembrava un disastro gli scimpanze e zombie potevano provocare guai in Congo e dove vivevano lo stato selvaggio ma la popolazione degli zoo di tutto il mondo poteva creare danni relativamente limitati due mesi dopo Hoffman ricevette una telefonata notturna che parlava di topi zombie una giovane donna che chiamava da un posto dove c'era un assordante ecometallica chiedeva aiuto fra grida e singhiozzi disse che suo fratello aveva ucciso un mucchio di topi cosa che avveniva tutti i giorni ma prima che lui riuscisse a metterli in un sacco un topo si era rizzato sulle zampette e l'aveva aggredito arrampicandosi sulle sue gambe saltandogli sul petto aggrappandosi ai suoi capelli l'intera famiglia della ragazza pallida e con le orbite nere si stava trasformando in zombie e questo era un'ingiustizia lei era riuscita ad arrivare al maledetto anno 6 Hoffman credeva che l'idea di un topo che riprendeva vita fosse in grado di rendere imbelli più induriti fra i rinnegati non aveva una paura particolare dei roditori ma la notizia equivaleva a un'irruzione entro le mura di una fortezza gli zombie scimpanze erano una cosa gli zombie topo non c'era bisogno di indossare un camice per capire che era stata infranta una barriera più importante le barriere vere e proprie si sarebbero dovute ripensare chi era deciso a sopravvivere poteva costruire barriere adatte a tenere fuori gli zombie a due gambe ma sarebbe riuscito a costruirne di così fini da tenere fuori gli animaletti Hoffman tornò alla biblioteca prestiti un libro sui grandi disastri un capitolo sulle pestilenze New York City da sola ospita due milioni di topi Parigi sei milioni Londra sette milioni Hoffman si ricordò di una conversazione al distributore dell'acqua della MLD in cui un collega si lamentava dei suoi problemi con i parassiti e l'altro citava un detto secondo cui non siamo mai a più di due metri dal topo più vicino semplicemente ci permettiamo di dimenticarlo nessuno l'avrebbe più dimenticato neanche Hoffman le telefonate che riceveva sui topi zombie non provenivano dalla stessa zona Utah Wisconsin South Carolina il passaggio ai topi si era verificato ovunque e lei non aveva motivo di dubitare che il prossimo topo che fosse morto alla MLD non si sarebbe decomposto in dignitoso silenzio si sarebbe rialzato l'avrebbe annusata e le avrebbe dato la caccia con gli occhietti rossi diventati bianchi basta pantofole Hoffman cominciò a indossare gli stivali con il gambale più alto di cui riuscì a trovare la sua misura che erano la cosa più elegante che si fosse mai messa addosso di pelle rossa con i tacchi massicci e le stringhe che arrivavano fino alle ginocchia Hoffman aguzzò l'estremità di una scopa e la portava sempre con sé anche a letto basta dormire sul divano della saletta caffè spostò i cuscini su un tavolo e coprì le gambe del tavolo di grasso per renderle scivolose come ultima precauzione ogni sera versava della farina tutti in giro per la stanza in modo da sapere al mattino se delle zampette zombie o meno l'avevano calpestata dormire non era più sicuro una notte si guardò intorno nella sala caffè illuminata dalla luna accorgendosi dell'assurdità della sua routine serale tentò di immaginare le difese che avevano prontato gli altri là fuori immaginò rinforzi di metallo inseriti in strutture di plastica sigillature giornaliere fili sottili poco prima di scivolare nel sonno si riprese con un sussulto quello che stava immaginando erano delle gabbie come quelle pensate per i criceti i gerbilli i cincillai i porcellini d'india e sì i topi solo che le persone vi rinchiudevano se stesse altra puntata dalla biblioteca prestiti questa volta sulla base di un presagio avuto in piena notte si sedette su uno sgabello come aveva preso l'abitudine di fare per proteggere le gambe da attacchi improvvisi e si misi a sfogliare qualcuno nel palazzo possedeva una miniera di manuali self-help fra cui uno per imparare la gentilezza Hoffman sprezzante di ogni educazione meccanica stava quasi per buttarlo via ma il libro aveva un capitolo sull'empatia e quando il suo sguardo cadde sull'elenco degli animali più empatici provò un dolore amplificato dalla solitudine per come si era ridotto il mondo in cima la classifica gli esseri umani al secondo posto scimpanze e orangutan al terzo posto i topi il capitolo comprendeva numerosi dettagli troppo tecnici i ruoli della regione neocorticale il girus destro supramarginale la giuntura temporo parietale ma i concetti fondamentali le erano chiari quando un topo era in trappola i suoi compagni tentavano di liberarlo gli mettevano da parte bocconi di cibo se il topo tornava libero veniva consolato affettuosamente le femmine erano più empatiche dei maschi cosa tutt'altro che sorprendente ma tutti i topi esibivano comportamenti sociali un tempo attribuiti ai soli primati Hoffman rimise il libro sullo scaffale quello che suggeriva a proposito della malattia degli zombie era troppo crudele e lei non voleva memorizzare l'ordine esatto degli animali elencati non credeva di riuscire a sopportare la descrizione dell'orrore che la tendeva e alzarsi ancora tutte le mattine dal suo letto a quattro gambe circondato di farina senza andare alla voce suicidio nell'indice dell'archivio e chiedersi come sarebbe stata con l'aggiunto di un altro numero di riferimento uno solo era raro che Hoffman mettesse la testa sotto la sabbia ma sapeva perché questa cosa la faceva soffrire si era sempre sentita vicina agli animali cosa diversa dalla Marley non aveva mai voluto un animale domestico ma si ricordava di aver trascorso gli intervalli da sola in cortile a guardare nel bosco oltre la cancellata sapendo che aveva più cose in comune con gli immobili attenti scogliattoli conigli e uccelli che con gli urlanti frenetici imprevedibili mostre le sue spalle insegnanti psicologi e perfino compagni quando impararono il termine amavano spiegare a Etta Hoffman che era priva di empatia lei non ci aveva mai creduto provava empatia come gli animali di nascosto dal mondo chiassoso avido ed esigente la sperimentava solo a modo suo perdere gli animali a favore dei non morti le faceva più male che perdere le persone perché l'unica cosa certa sull'epidemia di zombie era che gli animali non erano responsabili nessuno superò davvero la perdita dei cani perdere i cani era come perdere la guerra era il tradimento definitivo non da parte dei cani ma di dio o della scienza o di qualunque potere si scegliesse di accusare Hoffman sapeva che i cani erano speciali aveva visto Lessie Rin Tin Tin io e Marley sulla strada di casa i cani erano i nostri protettori i nostri compagni i nostri amici i nostri bambini i nostri anziani l'amore fra uomini e cani era il migliore esempio delle potenzialità del pianeta di come tutti gli esseri viventi potevano armonizzarsi le prove divennero refutabili il 2502 0000 i fedeli cani con i loro nasi formidabili e le loro orecchie a radar più utili alla sopravvivenza di qualsiasi cosa potessero offrire gli esseri umani erano stati accolti in centinaia di rifugi nascondigli dalla sera alla mattina diventarono bombe di terroristi le prime storie che Hoffman sentì riguardavano cani morti per incidenti o per vecchiaia che tornavano fuori dalle tombe meno profonde anche i cani morti erano bravi a scavare ci vollero molte uccisioni più di quante sarebbe stato giusto prima che la gente accettasse la nuova realtà e trascinasse lontano da casa gli amati cani Hoffman non riusciva a smettere di immaginare quelle scene i loro occhi confusi le orecchie appiattite il basso scodinzolio con cui chiedevano perdono la gente picchiava a morte i propri cani con pale e mazze da baseball badando a distruggere completamente le teste che aveva carezzato nei giorni bui i nasi che si erano infilati contro il loro collo nelle notti più fredde cosa sarebbe successo se il virus degli zombie si fosse trasmesso alle zanzare sul pianeta privo di vita avrebbero dominato uomini zombie senza niente da fare se non accettare le leccate sulla faccia dei loro cani zombie le cui lingue a ogni leccata avrebbero tolto un nuovo strato di epidermide e poi di muscolatura finché le facce degli zombie sarebbero scomparse e i loro crani gialli sarebbero rimasti a sorridere per l'eternità o almeno finché persone e cani insieme non si fossero volatilizzati come polvere nel vento Hoffman attribuiva la sua insofferenza a liberarsi del maledetto anno 6 al fatto che le aveva ispirato la rivelazione dell'anno 7 l'idea le venne mentre lavorava all'archivio il cannibalismo era stato un elemento inerente benché non esplicito a tutte le storie zombie che aveva letto e sentito i zombie erano persone che mangiavano persone quindi erano cannibali la voce cannibalismo non c'era nell'indice dell'archivio era in tutti i documenti l'avvento degli animali zombie rivelava il difetto di questo assunto per essere considerata cannibale una creatura deve cibarsi di un'altra della stessa specie ma gli scimpanzee zombie mangiavano gli scimpanzee vivi i topi zombie mangiavano i topi vivi i cani zombie mangiavano i cani vivi no tutti gli zombie non importava quale specie appartenessero davano la caccia agli esseri umani da questo semplice fatto Hoffman trasse due conclusioni sorprendenti il virus degli zombie non era cannibale il virus degli zombie era anti-umano dopo questa conclusione il mondo si fece silenzioso come se il palazzo della MLD fosse stato sepolto nella neve il senso di pericolo che dormiva da sette anni nelle vicere di Hoffman si risvegliò e sfoderò gli artigli gli esseri umani non erano le vittime casuali di un disastro naturale erano il bersaglio specifico dell'annientamento la graduale zombificazione del mondo animale era l'equivalente del diluvio biblico con le persone ridotte a una manciata di Noè era una notizia che la gente doveva sapere dirlo secondo Hoffman era segno di empatia nell'anno 8 Etta Hoffman aggiunse un post scriptum all'ultima delle sue domande vi prego di notare che gli animali zombie attaccano solo gli esseri umani il che vuol dire che gli esseri umani vengono eliminati intenzionalmente arrivederci fu un insuccesso le reazioni erano incontrollate e furibonde i litigi avevano sempre disgustato Hoffman si alzava di corsa dal telefono e vomitava e ogni conato di vomito suonava come cu 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 l'avvertimento antiumano di Hoffman forse ebbe un grande effetto sulla capacità dei sopravvissuti di accettare la loro perdita di rilevanza o forse non ne ebbe alcuno in ogni caso da quel momento arrivarono sempre meno telefonate l'ultima ondata di notizie significative che ricevette riguardava il vegetarianismo la carne era stata abolita dal menù nessuno era sicuro che l'animale non riprendesse vita sotto il suo coltello da macellaio Hoffman pensò che questa svolta culinaria era tardiva da otto anni trascriveva descrizioni di ossa animali ammonticchiate e di torrenti asciutti il cui letto tornava a riempirsi di sangue animale era un massacro insostenibile un ritorno dei massacri di bisonti del vecchio west Hoffman aveva letto tutto su quello che gli umani avevano fatto agli animali maiali stipati in gabbie piene di escrementi tacchini che si divoravano a vicenda in stie sovraffollate polli tritati quando erano ancora vivi segui la logica mormorava Hoffman se la natura si stava vendicando per il modo in cui trattavamo gli animali cosa avevamo fatto agli altri esseri umani perché la prima ondata di zombie se la prendesse con noi senza fare nessuna dichiarazione drammatica Hoffman cominciò a sistemare le sue cose a dare forma alla prefazione dell'archivio a stilare un indice complessivo a testare i materiali per stabilire quale poteva proteggerlo meglio da muffa e decomposizione procedimenti lenti che potevano richiedere un anno e più per essere completati se si voleva raggiungere la perfezione come Hoffman desiderava questo gli avrebbe lasciato il tempo di affrontare non solo la fine ma la sua fine fra gennaio e aprile dell'anno 9 ricevette solo 4 telefonate nessuna forniva nuove informazioni tutte avevano il sapore dell'addio avendo rinunciato a ogni speranza di ripristinare un equilibrio la gente abbandonava i vecchi rifugi anche quelli con accesso alle linee fisse o alla rete cadavere per migrare come facevano un tempo gli animali vagando e brucando gli occhi aperti in cerca di un tetto per la notte con i vivi costretti a scappare e rintanarsi il pianeta sarebbe stato in gran parte privo di colonizzazione umana per la prima volta da 200.000 anni Hoffman si chiese cosa significava questo sul piano globale era al di là di qualunque cosa trattata nella biblioteca prestiti solo quando era mezzo addormentata sul tavolo letto con le gambe unte di grasso la sua mente lasciava i soliti binari della logica e viaggiava liberamente Hoffman sognava che gli zombie erano i nuovi indigeni autoctoni come pochi altri con la grande differenza che si erano formati dappertutto nello stesso momento la terra intera apparteneva a loro Hoffman pensava che ci fosse qualcosa di grazioso in questo anche tenendo conto degli aspetti brutti i vivi racchiusi in tristi riserve costretti a vivere in condizioni poco migliori di quelle che un tempo loro stessi avevano inflitto al bestiame Hoffman non era passata del tutto inosservata in quei dieci anni i zombie in qualche caso si erano radunati in base a qualche ignoto indizio sentendo gemiti e battere di mani Hoffman era salita al piano di sopra per guardare la parte di Washington che aveva imparato a conoscere così bene un tempo illuminata dai fiori rosa dei ciliegi e dal verde brillante dell'erba era ormai un'esplosione di rovine di cemento e di avanzi sparsi dall'alto Hoffman valutava la minaccia degli zombie di solito solo un paio una volta nell'anno 5 ne erano passati 79 come linfa nella corteccia di un albero una lenta propagazione che l'aveva lasciata senza fiato solo nell'anno 1 e nell'anno 2 gli umani avevano tentato di entrare a Hoffman non piaceva pensarci non era pentita della sua reazione ma sapeva che in base ai vecchi criteri avrebbe dovuto pentirsene il vecchio con la barba e uno zaino portabambini vuoto sul petto che aveva strattonato la maniglia della MLD nel disperato tentativo di sfuggere alle orde di zombie che lo inseguivano Hoffman aveva visto mentre veniva divorato l'adolescente spuntato all'alba con un goffo marchigegno tipo hula hop per tenere a distanza gli zombie se c'era uno che meritava di condividere la salvezza con Hoffman era quel ragazzo ma lei aveva ignorato i suoi sforzi la famiglia di quattro persone che chissà come avevano intuito che la MLD era occupata e per 40 minuti erano rimaste a gridare di farli entrare per non informare della sua posizione tutti gli zombie e i banditi di Washington Hoffman era pronta a sfondare una finestra del primo piano e bersagliare la povera famiglia con oggetti pesanti e l'avrebbe fatto se la famiglia non fosse stata allontanata da dieci zombie vestiti da giocatori di football Etta Hoffman non era un'eroina lo seppe il 4095 4 e 55 giorno ora e minuto della prima telefonata di Snoop che voleva sapere tante cose di lei Snoop che persuase Hoffman a fidarsi perché era giusto farlo 10 anni di storie potrebbero essere molto importanti potresti aiutare un sacco di gente a capire come siamo arrivati qui disse se Snoop avesse davvero saputo come Hoffman aveva aiutato le persone avrebbe smesso di chiamare quando Snoop ottenne il nome di Hoffman lei credette che i suoi giorni fossero contati modificò la sua agenda per la prima volta in 10 anni lavorando 2 ore in più al giorno completò la stesura della sua prefazione finalmente soddisfatta delle istruzioni per l'uso dell'archivio finì il lungo e articolato indice analittico che pensava sarebbe stato di grande aiuto ai futuri utenti scelse una plastica industriale impermeabile e autoadesiva trovata nella sala manutenzioni per avvolgervi l'archivio alla fine Hoffman cominciò ad affrontare l'idea del suicidio non da una prospettiva indiretta ma con la decisione che dedicava ad altri argomenti era un bel problema non aveva armi non sapeva quali sostanze chimiche fossero letali se ingerite il palazzo non era abbastanza alto per buttarsi giù non si fidava di se stessa o del vecchio soffitto per impiccarsi darsi fuoco voleva dire mettere a rischio l'archivio tagliarsi i polsi aveva letto era una delle opzioni meno affidabili l'unico metodo sicuro concluse era uscire e lasciare che gli zombie la prendessero ci pensava tutti i giorni togliersi i vestiti per essere più facile da mordere spostare la barricata chiamare gli zombie un giorno dopo l'altro rimandava neanche dopo aver visto i primi topi zombie alla MLD due che passeggiavano affiancati al centro dell'atrio si rimproverava spietatamente la solita Etta Hoffman la ragazza che spingeva medici parenti e potenziali amici a rinunciare a stabilire rapporti con lei immobilizzata dall'idea di infrangere la routine era solo colpa sua se Snoop arrivò a bussare Hoffman si alzava sempre presto alle 5 e mezzo in punto ma era ancora prima un tum 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 più deciso di quello degli zombie la svegliò di soprassalto il suo cervello assonnato stabilì che quel tum 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 erano tamburi lontani di quelli che nei vecchi film di avventura i protagonisti sentivano arrivare dalle giungle piene di cacciatori di teste Etta facci entrare dai già perduti fra le liane della giungla i pensieri confusi di Hoffman si volsero ad Haiti dove i Bokor rubavano l'anima dei criminali sentire il suo nome pronunciato a voce alta dopo dieci anni fu come avere la prova che anche la sua anima era stata rubata e il Bokor era là fuori e la prendeva in giro dicendole che gliel'avrebbe restituita se solo fosse stata una buona anzambi e avesse fatto come le veniva detto Etta non siamo al sicuro qua fuori se non ci apri entriamo con la forza era Snoop la sua voce era come al telefono benché meno paziente Hoffman ispezionò le gambe del tavolo in cerca di peli di topo il pavimento cosparso di farina in cerca di impronte e si alzò non riusciva a pensare a come affrontare la sua gelida paura meglio che restando aggrappata alla routine controllò le finestre in cerca di minacce si vestì si allacciò gli stivali di pelle quando arrivò sul posto di lavoro i rumori nell'atrio non erano più di vetri rotti ma di mobili spostati c'erano anche i tonfi carnosi degli zombie eliminati con qualcosa di massiccio Hoffman non poteva prevedere se sarebbe stata trascinata via senza avere il tempo di prepararsi strinse il suo marsupio mimetico si agganciò la tazza rosa alla cintura con un moschettone inspirò a fondo ed espirò lentamente sentiva un bruciore allo stomaco e un tremito nel petto era in piedi al centro della sala principale e non sapeva cosa sarebbe accaduto quando entrò Snoop indossava abiti pratici di pelle aderente intorno alle gambe aveva degli elastici che reggevano i foderi artigianali di un lungo coltello e di un pezzo di tubo puntito lungo trenta centimetri sopra il bomber aveva un casco nero da hockey etta scusa Hoffman non disse nulla sempre meglio guardare e aspettare in sottofondo lo stridore e i sussulti della sua decennale barricata che veniva rimessa al suo posto Snoop si tolse il casco da hockey la sua faccia suggeriva poco meno di cinquant'anni i folti capelli biondi erano tagliati all'altezza delle spalle per sicurezza aveva segni di bruciature sulle braccia e una brutta cicatrice rossa che correva sulla guancia sinistra e sul collo tenendo d'occhio Hoffman Snoop si mosse superando file di cubicoli fino a trovarsi a un paio di metri da lei etta si scoprì a fissare i piedi di Snoop attaccate alle suole dei suoi stivali c'erano delle grate metalliche Hoffman indovinò il perché e provò ammirazione i bordi erano incrostati di viscere di topi zombie so cosa stai pensando stai pensando che ti ho ingannata è in parte così ma ho scoperto che le persone come te si abitano a pensare in un certo modo perdono di vista il quadro generale si dimenticano che esiste un quadro generale invece esiste è il mondo intero una voce maschile risuonò dall'atrio meno chiacchiere laggiù si stanno radunando lo sguardo di Snoop si posò sui 214 scaffali di raccoglitori lì accanto notò Hoffman con una fitta di frustrazione c'era la pellicola trasparente che non aveva fatto in tempo ad applicare è questo la voce di Snoop si abbassò fino a un sussurro Hoffman annui Snoop girò la testa e gridò alle proprie spalle Hart Lovstein chiudete tutto ci vorrà un po' di tempo altri movimenti nell'atrio ma nessuno lamentela il rumore rivelava che stavano chiudendo tutto rapidi ed efficienti Snoop tornò a guardarsi intorno e si morse le labbra si ammise lo prendiamo Hoffman avrebbe dovuto provare dolore invece si sentiva solo leggerita si portava quei raccoglitori sulle spalle da dieci anni voglio rassicurarti che ce ne prenderemo cura quello che hai qui Etta vale più di tutto l'oro del mondo se si vuole ricominciare e dove vivo io abbiamo ricominciato bisogna avere una prospettiva storica bisogna sapere dov'è che le cose hanno cominciato ad andare male lo so tu pensi che l'archivio sia più al sicuro qui hai paura che se lo spostiamo lo mettiamo in pericolo ma abbiamo già fatto cose simili noi prendilo Snoop esitò capisci che non ti sto minacciando non telefona più nessuno tranne tu tanto vale che lo prendi Snoop annui cautamente ok grazie abbiamo un carro blindato vedrai che roba possiamo trasportarlo tutto ma non è l'unica cosa che vorremmo prendere tutte le biblioteche hanno bisogno di una bibliotecaria Etta nessuna delle fantasticherie notturne di Etta su come poteva svolgersi quell'incontro prevedeva quella proposta sconvolgente sapeva che la sua reazione appariva la solita come se l'offerta di Snoop fosse un sassolino che cadeva da una statua la statua però era vuota e l'impatto della proposta si gonfiò fino a confonderla le sciolse le ginocchia finché non riuscì a pensare più a niente passarono alcuni secondi quanti? era aggrappata la postazione di lavoro di Annie Teller le sue mani sudate stropicciavano una foto di Tauna Medio si guardò alle spalle e vide Snoop che le allungavano a borraccia accanto a lei c'erano due uomini entrambi con i caschi da hockey l'abbigliamento di pelle pesante come quello di Snoop e altrettanto carichi di attrezzi le loro espressioni tuttavia erano diverse sembravano disgustati Hoffman non capiva con tutto quello che dovevano aver visto là fuori trovavano repellente la MLD Hoffman seguì il loro sguardo stavano guardando lei i suoi vestiti cominciò ad accorgersene non andavano per niente bene i pantaloni della tuta erano rotti in più punti i fili pendevano dai buchi come ciglia i tagli più grossi erano riparati con graffette graffette aveva perso la testa attraverso un buco sull'inguine si vedeva la biancheria la felpa la migliore che aveva era per un quarto smangiata dai topi e tenuta insieme con del nastro adesivo la maglietta sotto era segnata da dieci anni di macchie guardavano la sua faccia Hoffman tentò di ricordare l'ultima volta che si era guardata in uno specchio forse diciotto mesi prima quando aveva dovuto togliersi un canino con un colpo secco una cosa che alla MLD non si trovava era il dentifricio i suoi denti avevano assunto una straordinaria varietà di sfumature grigie gialle e marroni anche il resto della sua faccia era in cattive condizioni screpolata per l'area secca irritata da muffa e polvere punteggiata da funghi era più che pallida quel posto era stato costruito per durare con finestre che non si aprivano i suoi capelli gommosi e incrostati di grasso sembravano tirati fuori da uno scarico i resti della cena della sera prima si trovavano sulla scrivania di Annie Teller una tazza di scarafaggi morti era così scioccante i cibi ricchi di proteine avevano cominciato a scarseggiare nell'anno 7 e lei si era messa a mangiare gli insetti accanto alla tazza un piatto un'insalata di tarme formiche grilli e mosche era diventata lei stessa un insetto e nessuna creatura si trovava più in basso nella scala dell'empatia provò qualcosa che non provava da moltissimo tempo vergogna la etta Hoffman pre 23 ottobre aveva rifiutato molte trappole della civiltà ma adesso si era spinta troppo lontano aveva dovuto vedere tre persone in carne e ossa per accorgersene bibliotecaria Hoffman assaporò la parola senza un lavoro era più che infelice era pronta al suicidio ma adesso le era arrivata un'offerta per la quale lei la persona meno adatta del mondo ai colloqui non doveva fare domanda sì bibliotecaria pur avendo solo una vaghissima idea di cosa comportasse quel lavoro l'avrebbe accettato lasciare quel posto imparare nuovi comportamenti forse sarebbe stata la cosa più difficile della sua vita ma forse l'avrebbe riportata da insetto a essere umano lasciò che la parola le sfuggisse come una tarma prima di poterla riafferrare e mangiarsela sì 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 annui anche per timore che le parole le uscissero confuse i suoi occhi erano fissi a terra mentre la mano di Snoop le afferravano a spalla Hoffman aveva sempre provato fastidio per i contatti e dopo tanti anni senza neanche uno sfioramento sui mezzi pubblici le sembrò di essere aggredita si ritrasse Snoop ritirò la mano la vergogna inghiottì Hoffman come un mostro immaginò di sentire lo sciacquio acido della sua felpa indurita sporca e sudata ti ripuliremo sussurrò Snoop come per scusarsi useremo un po' della tua acqua non preoccuparti ne abbiamo molta dove stiamo andando il 4107 05 18 etta Hoffman lasciò il palazzo della MLD uscì per seconda dietro a Snoop che impugnava sia il coltello che il tubo di acciaio Hoffman tenne aperta la porta per Lenny Hart e Seth Lovstein che cominciarono a scaricare due carrelli con le ruote di gomma pieni di raccoglitori dell'archivio in quello che sembrava un carretto per bambini solo due volte più grande e munito di grosse ruote di gomma rivestito di placche di acciaio come il casco di un esploratore e con il proprio nome Giulietta dipinto sopra mentre lavoravano facevano delle smorfie come se in quel modo attutissero i rumori anche Hoffman fece una smorfia poi si bloccò e dimenticò di respirare quasi 4000 giorni erano passati da quando aveva assaggiato un'aria che non fosse passata da bocchette oleose tubi rugginosi ventole impolverate tornare nel mondo era una dura rinascita colori da ipodromo le ferivano gli occhi dilatati l'aspro delle foglie la prendeva la gola il dolce dei fiori le impastava la lingua le esalazioni dell'asfalto rovente le scioglievano le narici la polvere mossa dal vento le colpiva la pelle come punture d'insetto il mondo era fragoroso ronzì sussurri scatti e tremiti formavano una fanfara che accompagnò la sua prima uscita in una vastità inimmaginabile Snoop aveva imparato a non toccarla alzò le mani capaci entrambi armate le vedi queste ti ho presa nessuno le aveva mai detto una cosa del genere e fino a quel momento Hoffman pensava che non le sarebbe importato se qualcuno l'avesse fatto invece le importava le parole insieme alla vista del corpo di Snoop forte e ben protetto le penetrarono nel sangue e la imbevero di una forza che aveva smarrito da tempo alzò la faccia contro il vento che la schiaffeggiava aprì gli occhi doloranti rivolti al sole luminoso in fondo all'isolato fra due edifici della cui esistenza si era dimenticata uno zombie passò attraverso una macchia di alberi cresciuti disordinatamente ma Hoffman non provò paura Snoop era vicina Lenny Hart e Seth Loveston erano veloci e pronti a partire il mondo era così pieno di possibilità che lei rifiutava di credere che stesse arrivando una sola fine dovevano esserci infinite fini un pensiero poetico forse era davvero la poetessa dopo tutto c'era stato poco da fare prima di partire il che la diceva lunga no? la rete cadavere aveva poche cose in comune apparentemente con la vecchia internet ma con l'aiuto di Seth Loveston Etta verificò a uno a uno tutti i cambiamenti che aveva inserito ristrutturare i siti governativi era facile la cosa difficile era decidere in che modo farlo Hoffman guardò il messaggio che aveva scelto dieci anni prima state bene chiamatemi quelle tre parole la prima Q avevano fatto meraviglie convincendo chi non aveva nulla in cui credere che qualcuno voleva avere loro notizie e se è una persona importava dovevano essercene altre cosa poteva mettere al loro posto adesso che l'operazione era conclusa ci pensò tutta la notte resa inquieta dal proprio corpo caldo e scricchiolante aveva eseguito l'ordine di Snoop e si era fatta un bagno si era svegliata prima dell'alba con gli altri si era seduta per l'ultima volta la scrivania di Annie Teller e aveva posato le dita sulla tastiera ancora incerta Etta è ora di andare Hoffman cancellò le tre parole che lampeggiarono come se non fossero mai esistite senza un solo errore battè un nuovo messaggio leggermente diverso dall'altro che sperava desse forza e coraggio a qualcuno state bene Snoop si sorprese che Hoffman non avesse oggetti personali a parte la sua tazza rosa e un marsupio pieno di smartphone per registrare future trascrizioni Hoffman si guardò intorno per un ultimo controllo il suo sguardo si posò sulle foto che aveva attaccato alla postazione di Annie Teller staccò le due che preferiva Annie Teller orgogliosa con la divisa da calciatrice da una medio a letto con l'aria sonnata e un gatto calico che le leccava la faccia Hoffman prese un paio di forbici dal cassetto tagliò le parti in eccesso delle foto e usò il nastro adesivo per mettere finalmente insieme le due donne si infilò il risultato nel marsupio sono pronta disse era una bugia ma non aveva mai avuto problemi a mentire lo zombie in fondo all'isolato era vecchio e lento Lenny Hart puntò la sua mazza di illuminio per indicarne altri che emergevano dall'ombra Seth Lovstein afferrò l'impugnatura della Giulietta Snoop alzò le sopracciglia rivolte a Hoffman Hoffman inspirò a fondo fuori l'aria doveva contenere più ossigeno le feriva i polmoni le annebbiava la vista andare sull'ottovolante doveva essere così rimpianse di non averlo mai fatto quando il finto pericolo era ancora utile al cervello umano annui si diressero verso una via laterale fra gli zombie i primi passi di Hoffman furono incerti non solo la strada era irregolare per le tubature dell'acqua scoppiate ma indossava le piastre per calpestare i topi che Lenny Hart aveva improvvisato con delle grate da pavimento avvitate le suole degli stivali bisognava stare a gambe larghe e fare passi più lunghi ma le piaceva doversi concentrare per camminare così non voleva cadere e creare problemi non voleva cadere e creare problemi le persone si erano fidate di lei per dieci anni ma mai così tanto doveva ricambiare la fiducia cioè parlare pensò come aveva parlato a chi telefonava ci sono solo topi e cani e scimpanze abbiamo sentito di delfini ma ovviamente non abbiamo prove adesso è la volta dei polli se vedi un pollo diccelo sono incredibilmente difficili da colpire ci mancavano soltanto dei polli zombie Snoop sorrise e Hoffman tornò a guardarsi i piedi per tenere dritti gli schiacciatopi ma soprattutto per placare i forti palpiti del suo cuore ti do un consiglio quando incontriamo del fango continua a camminare altrimenti a fondi c'è un sacco di fango a Washington dicono che le pompe si sono fermate il primo mese l'acqua ha invaso le falde adesso siamo in alto ma vedrai ci sono dighe di castori lungo tutta la circonvalazione probabilmente sai che Washington è stata costruita su una palude beh la palude è tornata Lenny Hart fece un fischio basso Snoop al solo sguardo e Hoffman la imitò a un isolato di distanza c'erano altri tre zombie Hart indicò con la mazza da baseball e l'incrocio a cui puntavano e il gruppo affrettò il passo forse sono impazzita ma gli zombie mi sembrano più lenti il loro percorso volgeva a nord Hoffman vide che i tre zombie li seguivano sembravano davvero lenti ma ciò che la colpì nell'osservazione di Snoop ci mise quindici minuti a rivelarsi gradualmente e meravigliosamente come il sole che sorge all'orizzonte Snoop non chiamava gli zombie loro li chiamava semplicemente zombie una piccola differenza che poteva cambiare il mondo Hoffman non aveva mai pianto e non l'avrebbe mai fatto ma avrebbe sempre ricordato quel momento come quello in cui c'era andata più vicino Etta è tutto ok stai bene stai bene se Hoffman avesse creduto nei segni questo sarebbe stato buono non alzò gli occhi in segno di risposta voleva camminare sicura finché i nuovi anni bui si fossero illuminati quanto bastava perché lei intraprendesse con fiducia nuove strade il nome che mi hai dato era il tuo vero nome ma certo il tuo no Etta Hoffman riconobbe Hoffman per verificare se le andava ancora bene piacere di conoscerti di nuovo io sono Charlene Rukowski i morti viventi espressione contraddittoria che poneva un sacco di cu 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 la più grande delle quali era chi era chi quando la vita e la morte erano ugualmente brutte e si distinguevano a malapena gli abitanti dell'una e dell'altra bisognava temere solo il passaggio del confine forse Hoffman si sarebbe data l'obiettivo di scoprire la differenza forse dove erano diretti un posto che Snoop Charlene Rukowski chiamava Old Muddy tutti riuscivano a coglierla e la foto di Annie Teller e Town Amedeu si sarebbe rivelata un oggetto profetico valeva la pena di tentare c'erano le notti le albe e i giorni dei morti comunque li si volesse definire e su quelle terre tutti loro non solo gli zombie potevano ancora scrivere diari di nuove speranze e forgiare nuove definizioni di sopravvivenza